segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te dice no ma voleva sapere una cosa ma cosa da fa per venire a fatica due questo è il tenore delle telefonate ricevute da donna luisella titolare di un noto ristorante sul lungomare di napoli a seguito della pubblicazione di un annuncio di lavoro chiedevo personale che sappia solo ovviamente parlare italiano che sappia un po la lingua inglese e che abbia un po di conoscenza di vini e che sappia spinare il pesce anche lui di là mi ha risposto ma quando cosa sono venire a fatica due al che io ho preso il telefono e ho riagganciato insomma a napoli sembra che domande offerta di lavoro non riescano prove a incontrarsi nonostante il tasso di disoccupazione sia altissimo e siano migliaia i percettori di reddito di cittadinanza io penso che una persona deve essere qualificata per percepire 1600 euro al mese chi è percettore di reddito non pensa a tante cose fanno le cose di base porta il piatto a tavolo alza il piatto da tavolo dicono so fare perché ho fatto il cameriere 20 anni ma come l'hai fatto questo cameriere 20 anni così nell'era post reddito la ricerca del personale resta ancora un'orda impresa mi hanno chiamato una ventina di persone ma in realtà si sono presentate solamente tre che mi hanno poi dato appuntamento ma che non sono mai venuti le sto ancora aspettando ultima spiaggia i lavoratori stranieri le ho formati hanno acquisito subito tutto ciò che c'era da imparare in questo mondo avendo la volontà di imparare si può sempre fare